Al Vigino il Borgo Vercelli supera per 4 a 0 il Borgo Maniero e si candida ad un ruolo da protagonista assoluta nel campionato di eccellenza. Il primo sussulto del match al terzo, Esposito allunga per Miglietta che tenta il cross, vita, interviene e devia in calcio d'angolo. All'ottavo Borgo Vercelli in vantaggio, a sbloccare la situazione è Esposito che beffa Fonsato con un preciso tiro. La risposta del Borgo Maniero è immediata, Ricchi poi costringe Cantele al tuffo. Episodio, Dammo Viola al tredicesimo, contatto in aria tra Agheibon su ed Esposito, il direttore di gara non ha dubbi ed ammonisce per simulazione l'esterno di casa. Al ventesimo scambio in velocità tra Seletto e Reunione che chiude il triangolo lanciando a rete il 2002 di casa che davanti a Fonsato allarga troppo il tiro. Alla mezz'ora, punizione dal limite per l'Accademia, il tiro di Leto Colombo è forte e preciso. La risposta di Cantele vale quanto un gol segnato al trentacinquesimo. Vita, strattone a Reunione in piena aria di rigore. Il signor Moncalvo di Collinio non ha dubbi ed indica il dischetto dagli undici metri. Reunione trasforma. Cinque minuti dopo è secondo rigore di giornata per Borgo Vercelli. Rognione sfonda a sua sinistra e Adonia non resta che a atterrarlo. Dagli undici metri, Rognione non sbaglia e fa tre a zero. In finita di tempo, Borgo e Manero vicino ad accorciare le distanze. Ma Ricchi poi, da pochi passi, non riesce a trasformare l'assist volante di Secci. Al terzo della ripresa. Secondo atto della sfida tra Ricchi e poi è Cantele. La risposta del portiere di casa, anche in questa circostanza, è da applausi. Tre minuti dopo, Cantele continua il suo show. La risposta sulla deviazione ravvicinata di Manfroni salva ancora una volta il risultato. Al quarto d'ora, Esposito si libera in un fazzoletto e costringe Fonsato alla deviazione in angolo. Ancora, Fonsato protagonista poco dopo, quando ribatte il diagonale dell'ottimo seletto. Tutti in piedi al vigino al minuto 83 per il definitivo 4-0 del Borgo Vercelli. L'assist di Esposito al termine di una splendida azione colale per seletto è un circolatino che classe 2002 tramuta in rete.